intervistato il presidente della pisana oggi partita perfetta la vostra sì oggi dopo un po di tempo siamo riusciti a fare una buona prestazione e i ragazzi hanno bisogno comunque di una di un cambio di trend perché ultimamente ci girava un po male un po tutto sia a livello di gioco che anche a livello di fortuna quindi per noi oggi era importante vincere in previsione poi del rush finale dove dobbiamo cercare di fare più punti per recuperare posizioni in classifica la squadra molto preparata sia dal punto di vista tecnico che tattico no no oggi abbiamo i mister hanno fatto un ottimo lavoro pre partita perché oggi non potevamo fallire era una partita dentro fuori perché non vince ad oggi compromettevamo la qualificazione playoff quindi ora siamo ancora in corsa e ci giocheremo le nostre chance nelle partite rimanenti cinque gol questo a testimoniare la bella partita di oggi benissimo ben tutti bene ho visto sia i primi otto che sono partiti che anche i giocatori che hanno ruotato durante l'incontro si sono comportati tutti nel modo in cui noi ci aspettavamo che si comportavano grazie